Allora, Giulia, finalmente ci conosciamo. Dottor Vincenti. Allora come va questo periodo? Niente di che. Solite cose. Non c'è nessun ragazzo. Non c'è nessun fidanzato. Non c'è niente. Perché mi fai questo? Per te non sono niente. Niente di niente. Niente di niente. Ci metto niente a metterti le mani addosso. No, no, ma io sono sicuro che sei capace di farlo. Io voglio solo Giulia. L'amore conta. Conosci un altro modo per fregar la morte. Nessuno dice...